allora salve salve a tutti e no ero qua che pensavo e mi è venuta mente una cosa che volevo così condividere questa cosa che no che diceva un po di tempo fa sul dolore sull'energia di nascondere il dolore sull'importanza a volte forse di non proprio di non nasconderlo ma di starci dentro e anche perché ma a volte dolore è una reazione anche da un comportamento altrui per cui a volte magari quando gli altri si rendono conto che che certe certe cose ci fanno male magari fanno più attenzione si può pensare così poi c'è un'altra cosa rispetto al dolore che mi è venuta in mente che che è vero che quando si è nel dolore si è estremamente narcisisti e cioè si passa si parla e si pensa solo a se stessi e allora da lì secondo me nasce la necessità così di curarsi un po di più per stare meglio un po tutti poi alla fine all'altra cosa l'avrete forse intuito capito fatto che io parli molto di co molto di questo è legato profondamente anche una riflessione che faccio anche livello artistico da un po di tempo ed è dunque uno va beh secondo me c'è una connessione molto forte tra vulnerabilità che non necessariamente legata al dolore ma questa così uno stato più fragile più vulnerabile che secondo me molto legato anche all'atto creativo non è necessariamente così negativo è però uno stato un po in cui ci si ci si mette soprattutto quando si crea proprio per per toccare del non la superficie ma delle cose un po più profonde e l'altra cosa rispetto alla vulnerabilità e al dolore mi sono persa perché c'è il vicino che sta facendo un casino pazzesco io non so se si è messo gli scarponi da sci ma sono due tre giorni che quando scende e abito sotto lui abita sopra cioè sembra che si stia per crollare la casa vabbè e vulnerabilità dolore creatività sì ecco e c'è quest'altra cosa che forse non ho detto che magari così io da un po di anni indago molto il procedimento il processo creativo cerco di di interpellarlo di chiedere sì di madonna mi vengono delle parole molto francesizzanti mi dispiace lo gli faccio delle domande lo questiono vabbè insomma lo interrogo ecco lo interrogo e lo interrogo anche con così perché in qualche modo anche il lavoro che che faccio con che condivido con altre persone sia collaboratori che che allievi eccetera 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 in qualche modo è sempre molto legato anche al al cercare di mettersi in una situazione che che faciliti anche questo processo creativo e che ognuno ha il suo e tra l'altro il proprio processo creativo può può anche trasformarsi cambiarsi nel tempo e va benissimo così mi sono resa conto che nel tempo ci sono delle volte in cui non so fa crea uno spettacolo come se fosse un un puzzle oppure un'altra volta è è più uno storyboard oppure insomma altre volte è una specie di sinfonia musicale a invece proprio c'è una drammaturgia molto teatrale dentro insomma dipende e va bene cambiare secondo me in questo senso va bene rinnovarsi cambiare comunque allora per tornare a questa serie un po strana che sto facendo questa winter time in realtà questa cosa qua voi state assistendo un pochino a un mio parallelo processo creativo cioè anche se non lo nomino e mi sto divertendo a fare questa questa cosa delle puntate questo gioco un po così e però è molto è molto in relazione a un mio attuale processo creativo cioè a volte apro la camera condivido con voi dei pensieri che sono in relazione comunque con un brainstorming che sto che sto facendo in questo periodo che è in relazione a dei progetti e allora forse era chiaro però magari no e quindi vabbè volevo chiarirvi forse anche questo saltare di palo in frasca dalla canzone al cane alla cacca ai fiori alla neve alle osservazioni ecco credo che insomma questa una puntatona siamo sei minuti passati e allora vi abbraccio e alla prossima a no una cosa una postilla importante credo che prossimamente rallenterò la diffusione di queste puntate perché sto per entrare in un periodo abbastanza caotico per cui si avrò forse meno occasioni e meno possibilità soprattutto di girare degli episodi però insomma forse rallenterò un po invece di due al giorno arriveremo a uno al giorno insomma una cosa così insomma ci siamo siamo sempre qua ok un abbraccio grazie